buongiorno buongiorno dal dottor claudio sarascino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera professionale con la v maiuscola oggi ragazzi parlerò di quest'audio dcs molto potente dal titolo non rughe togli le rughe dal tuo viso un audio molto potente professionale che è creato per guidare il tuo cosciente la tua mente profonda ad eliminare tutte le rughe sul tuo viso a ingiovanire senza ma e senza sempre non devi credere nessuna parola del sottoscritto devi soltanto farvi pensare soltanto e che le rughe sul viso sono causate da pensieri negativi da emozioni negative e naturalmente con l'età queste emozioni negativi pensieri le ripetizioni aumentano a livello esponenziale solo a te la scelta se rimanere dove sei oppure cambiare un attimino senza fare nulla di invasivo soltanto parole create ad arte e create ad hoc che hanno aiutato centinaia e centinaia di persone nel mondo a cambiare il loro aspetto e a ringiovanire eliminando rughe zampe di galline chi più ne ha più ne metta soprattutto donne ma anche ti posso assicurare molti uomini nella nostra associazione di los angeles baby years l'associazione in prology associati solo a te la scelta clicca giù su scarica di quest'audio molto potente dcs e meravigliati del potere della tua mente che può fare il miracolo della tua stessa mente d'accordo fammi tutte eventualmente se hai dubbi scrivi un'email all'associazione di prology associati a conceduto tutti i diritti degli audio dcs e comunque ci sarò pure io a rispondere se avrò tempo però fidati che puoi scaricarti quest'audio dcsi in qualsiasi parte del mondo in cui li siedi in completo anonimato senza dare conto a nessuno e seguire alla lettera le istruzioni molto facili alla prova di un nonno alla prova di un pigro alla prova di un idiota e meravigliarti ripeto ancora una volta del potere del tuo subcosciente il tuo pilota automatico che comanda sulla tua pelle presso sulla tua età perché ricordati la mente non è l'età né spazio né tempo niente a te l'ardua scelta l'ardua decisione di cosa fare ok visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni di cesso del dottor claudio saracino e fai share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni di cesso il dottor claudio saracino un bacio un abbraccio alla prossima ciao